Vi ricordate come gridavano Ah l'Italia diventerà la zimbella d'Europa Lo spread ci mangerà vivi La domanda che ci poniamo tutti e che si è posto di riservare a capezzone al TG4 è Dove sono ora questi oracoli ben pensanti? Dove sono ora questi stregoni, questi sciamani che pensavano di prevedere il futuro? Sì, però noi dobbiamo avere anche la memoria di quello che diceva l'opposizione fino a 5 minuti fa Perché altrimenti confidano che noi abbiamo la memoria del pesce rosso Che dura 9 secondi, arriva da un punto all'altro della vasca e poi il pesciolino si è dimenticato E scusa, dicevano, ah lo spread si impennerà, si è impennato lo spread, no è sceso Le borse crolleranno, sono crollate le borse? No, in un anno sono cresciute del 28% I posti di lavoro andranno malissimo, siamo a record di posti di lavoro L'economia andrà malissimo, è debole ma cresciamo più della media europea Prima di continuare con il video però vi chiedo un favore di iscrivervi al canale È gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? Più della Francia, più della Germania, vuol dire che va tutto bene? No No, però vuol dire che quelli che avevano fatto da sinistra i profeti di Sventura Hanno fatto una figura da gufi, la Meloni Allora, io che sono un liberale vorrei ancora più tagli di tasse Non solo per le fasce deboli ma magari spalmate nel tempo anche per le altre fasce Va bene, però lei con le poche risorse a disposizione ha fatto un taglio di tasse In due colpi sul cuneo fiscale e sull'elicote IRPEF Proprio per i redditi più bassi con un beneficio mica piccolo Fino a 28 mila euro Io mi aspettavo che una sinistra normale dicesse Beh, questa è una cosa buona E invece continuano a strillare Ma allora, poi capisci perché le opposizioni non sono più credibili, no? Allora Allora